Ragazzi bentornati sul video 9.000 giri elaborazioni autosportive, dopo la pausa estiva riniziamo alla grande con un po' di macchinine interessanti. Allora qui abbiamo una Suzuki Swift Sport in versione hybrid, su questa macchina ne abbiamo già lavorato precedentemente, non era la versione hybrid, era la versione normale, comunque grosso modo in linea di principio le macchine sono molto molto simili, a livello di motore cambia qualche cosa però come struttura grosso modo la macchina è simile. Allora come sulla versione precedente il cliente ci ha chiesto, in questo caso dividendo il lavoro in due step diversi anche per una questione economica, di completare lo stage 1 motore. Quindi lo stage 1 motore è composto da centralina, pedal booster, filtro e la parte scarico. Per il momento la parte scarico vedete ancora quella originale, il mese prossimo completeremo appunto questo stage 1 con l'acquisto del classico terminale e centrale diretto Ragazzon, ricordiamo che il terminale sarà un terminale omologato con uscite da 112 in carbonio che si andranno ad alloggiare perfettamente in queste asole, quindi a livello estetico, a livello di sound e qualcosina a livello di prestazioni andiamo a guadagnare. Comunque per il momento il discorso scarico lo vedremo settimana prossima. Noi quello che stiamo facendo, il buon Mirko è qua che sta tribolando, è mettere a punto la parte motore. Allora la parte motore come in tante altre occasioni la trattiamo con la centralina Seletron che noi andiamo poi a ritoccare e a riprogrammare, quindi in questo caso Mirko sta seguendo i vari punti di pressione per applicare appunto alla cavetteria i vari bypass. Una volta stesa la cavetteria troviamo un connettore che è questo connettore qua sul quale andrà montata poi la centralina vera e propria. Questo tipo di sistema garantisce gli stessi risultati di una mappatura seriale con il grosso vantaggio di essere gestibile in maniera autonoma dal cliente, quindi se la vettura è in garanzia, prima di andare in assistenza si sgancia la centralina, si mette il tappo di chiusura, che è questo, si chiude il sistema e la macchina ritorna immediatamente originale come l'ora precedentemente. Quindi è un sistema molto valido, collaudato in maniera veramente, l'abbiamo collaudato su centinaia di vetture, sono ormai anni che utilizziamo questo prodotto e devo dire che ci dà grosse soddisfazioni. Questo per quanto riguarda il discorso coppia e potenza, nello specifico abbiamo fatto una mappa con un incremento di 24 cavalli e 42 Nm di coppia, quindi più che sufficienti per variare il rapporto peso potenza e dare più spinta a questa macchina, sempre nell'ambito di una ottimizzazione, cioè quando noi parliamo di modifiche elettroniche o modifiche in generale, ci conoscete ormai da tempo, in vari video, io spiego sempre questa cosa, non esageriamo mai con gli interventi, con le pressioni, con i ribassamenti degli assetti, con gli scarichi troppo rumorosi, cerchiamo di fare delle cose eleganti soprattutto che non creino problemi a livello di affidabilità. Quindi questo per quanto riguarda il discorso della centralina. Unitamente alla centralina andremo poi, scusa Mirko, andremo poi a cambiare il filtro aria, questa è la scatola filtro originale, quindi verrà tolto questo filtro che è in materiale diciamo spugnoso, che non è riciclabile e lo sostituiremo con il classico filtro aria pannello BMC, che poi è questo, che andrà appunto lavato e verrà rigenerato, diciamo, a cadenza ogni 10.000 chilometri, questo per quanto riguarda l'aspirazione. L'ultima cosa che rimane è il pedal booster, come abbiamo spiegato tante volte, il pedal booster è un sistema elettronico che va a bypassare il segnale sul pedale acceleratore e questo consente di, se vi faccio vedere solo quello che è la parte diciamo a vista, questa è la centralina, qua c'è il cablaggio, quindi andrà fatto il bypass dietro al pedale acceleratore, quello che risulterà è un telecomando come questo, che noi posizioniamo di solito di fianco, a destra o sinistra del piantone di sterzo, cliccando su questo tastino, si andrà a selezionare uno di questi quattro programmi, a seconda del programma, partendo dal più basso, diciamo, come reattività che è il city, fino ad arrivare a quello più reattivo che è il plus, ogni step guadagna, diciamo, riduce del 25% il tempo di risposta, quindi in questo caso, avendo la parte elettronica, le coppie potenza e la parte, diciamo, di riduzione del buco, in partenza, lo stage 1 è a questo punto completato, abbiamo la macchina assolutamente perfetta come lo era prima, solo che diventa più dinamica, più brillante, ridurremo i consumi, in funzione del tipo di guida comunque ridurremo anche i consumi, diciamo, un'elaborazione che alla fine noi troviamo intelligente, alla fine con tanta resa, poca spesa, la macchina guadagna in maniera, direi, più che onorevole. Per il momento direi è tutto, magari ci riaggiorniamo il prossimo mese, quando il cliente deciderà di montare lo scarico e vedremo la macchina completata, quantomeno per la parte meccanica a livello generale sullo stage 1. Quindi per il momento è tutto, vi ricordiamo di consultare il nostro sito www.9milagiri.it, qualunque tipo di richiesta ci chiamate direttamente in sede 027383175, di solito rispondo sempre io a qualunque vostra domanda, da lunedì al venerdì, quindi sabato e domenica non se ne parla, soprattutto cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Saluti, alla prossima!